pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati dal vangelo di domenica la purificazione del lebroso noi possiamo cogliere un prezioso itinerario di rinnovamento della nostra vita suddivisibile in tre passaggi primo passaggio un lebroso che invoca il signore tenete conto che al tempo di gesù erano indicate come lebra diverse malattie della pelle tra le quali anche il morbo di hansen oggi purtroppo in alcune zone povere del mondo è ancora presente e la lebra è davvero una malattia devastante è come una morte in atto nelle proprie membra che isola anche dagli altri pensate che al tempo di gesù i lebrosi dovevano vivere fuori dal villaggio stare lontani da qualsiasi persona ed erano addirittura considerati castigati da dio insomma morte dentro e solitudine profonda ecco perché la lebra è un simbolo molto efficace del peccato la lebra dell'anima e in fondo di tutto ciò che ci rinchiude in noi stessi e ci isola da dio e dagli altri ora questo lebroso al passaggio di gesù fa un atto di fede immenso gli va incontro si getta in ginocchio e dice signore se vuoi puoi purificarmi è un atto di fede nella potenza di dio quest'uomo pensa se vuoi tu puoi liberarmi puoi farmi del bene tu puoi tirarmi fuori da questa morte che mi sta dominando e darmi una vita nuova è paradossale miei cari pensate proprio la lebra proprio quella situazione di morte quelle piaghe che lo isolavano dagli altri diventano ciò che lo spinge a cercare il signore diventano il punto di contatto con lui con la sua misericordia e consolante anche nella nostra vita spesso sono proprio le cose irrisolte persino i nostri peccati le nostre ferite interiori a diventare la porta d'ingresso di dio nella nostra vita i luoghi dove ci lasciamo raggiungere dal suo amore allora miei cari ecco il primo passaggio quest'uomo parte dall'invocare di cuore il signore dicendo se tu lo vuoi puoi purificarmi ed è proprio qui miei cari che parte e sempre riparte il nostro cammino perché il signore possa rinnovare il nostro cuore sembra scontato ma vi assicuro che non lo è noi a volte vediamo ciò che noi non va ma non siamo disposti ad ammetterlo e passiamo la vita cercando di coprire la nostra lebra sotto gli stracci dei beni che possediamo dell'immagine che restituiamo magari sui social dei ruoli che ricopriamo arrampicandoci sugli specchi cercando di cadere sempre in piedi ma se la lebra è in atto dunque se siamo nel peccato se ci sono ferite aperte irrisolte non è nascondendole o facendo finta di nulla che guariremo e nemmeno presumendo di farcela con le nostre sole forze della serie mi impegno un po di più un po di consapevolezza di me in più qualche tecnica psicologica in più e sono a posto per carità tutto serve ma dobbiamo capire che ci sono delle cose che da soli non risolviamo il peccato solo dio lo può cancellare certe ferite dell'anima solo lui le può curare la grazia di poter amare sempre fino alla fine solo lui ce la può dare allora miei cari è proprio da qui che sgorga una preghiera vera autentica mettere tutte le nostre piaghe tutte le nostre fatiche tutte le nostre difficoltà davanti al signore in fondo potremmo dire che la vera malattia è rifiutare di farlo è rifiutare il nostro limite è rifiutare di ammettere ciò che non va è rifiutare di metterlo davanti al signore più neghiamo di essere fragili più lo diventiamo più accettiamo di essere salvati da gesù più confidiamo in lui e nel suo amore più diventiamo forti in lui secondo passaggio miei cari gesù ha compassione di quest'uomo e con gesti e parole carichi di tenerezza gli va incontro lo tocca e gli dice lo voglio si purificato tenete conto che non sono gesti da poco al tempo di gesù toccare un lebroso significava diventare impuri e dunque inadatti al culto gesù va oltre queste tradizioni umane e fa sentire concretamente il suo amore a quest'uomo la sua vicinanza e soprattutto conferma la sua volontà di bene lo voglio si purificato fateci caso quest'uomo ha detto se vuoi puoi purificarmi gesù risponde lo voglio si è purificato miei cari chiediamoci ma io che idea ho della volontà di dio qualcosa di esigente un limite alla mia libertà un peso una spada di damocle che pende sulle mie scelte tutti i guai possibili e immaginabili che capitano davanti ai quali affermiamo è la volontà di dio o che la volontà del signore è il meglio per me credo profondamente che la sua volontà è il meglio per la mia vita e la liberazione della mia vita e la mia santificazione lo credo per le persone a me care crescere in questa consapevolezza è un cammino a volte anche doloroso perché credere che il signore voglia il meglio per noi davanti a certi lutti a certe situazioni difficili a certi avvenimenti che neanche noi riusciamo a spiegarci non è semplice non è una cosa immediata è frutto di un cammino di una crescente intimità con gesù frutto di un cuore che prega che merita la sua parola che compie i suoi atti di abbandono fiducioso più lo frequentiamo più crescerà in noi quella consapevolezza che portò san paolo a dire so in chi ho riposto la mia fiducia allora iniziamo da lasciare che le parole di gesù si incidano nel nostro cuore lo voglio si purificato io voglio che la tua vita sia liberata ora miei cari questo secondo passaggio cosa ci ricorda che dio una volontà di bene per noi è l'importanza di lasciarci toccare da lui quest'uomo lascia che gesù lo tocchi che prenda contatto con lui e accoglie le parole che il signore gli dice e questo miei cari come si realizza nella nostra vita ad esempio nella preghiera parlando al signore delle nostre fatiche nell'adorazione eucaristica dove apriamo il nostro cuore ai raggi del suo amore nel non stancarsi di confessare al sacerdote quel peccato magari reiterato oppure aprendo il cuore fino in fondo in sede di accompagnamento spirituale raccontando quelle dinamiche quel vissuto che magari ancora oggi fa male o del quale sentiamo vergogna perché dio possa metterci mano perché possa toccare sanare illuminare la nostra vita non temiamo fratelli e sorelle come disse giovanni paolo secondo apriamo anzi spalanchiamo le porte del cuore al signore terzo passaggio miei cari perché la nostra vita sia davvero rinnovata la grazia non va soltanto chiesta e accolta ma anche assimilata cioè c'è da entrare in un cammino di conversione gesù intima a quest'uomo di non parlare con nessuno di presentarsi prima al sacerdote presentando l'offerta prescritta dalla legge spettava al sacerdote infatti ratificare la guarigione e riammettere quest'uomo nella comunità potremmo dire così ciò che conta non è tanto guarire ma acquisire atteggiamenti sani perché altrimenti ci si riammala di nuovo e magari peggio di prima a dio non basta purificarci lui vuole che viviamo una vita bella piena che profuma d'amore e perché ciò accade necessario un cammino arrivare alla nostra pienezza la santificazione non è cosa di un istante è un cammino giorno dopo giorno per questo gesù chiede a quest'uomo il silenzio di metabolizzare bene quello che ha vissuto e invece una volta guarito cosa fa va e racconta a tutti ciò che gli è accaduto al punto che gesù non può più entrare in città perché è considerato anche lui impuro non ha compreso che quella grazia ricevuta non era il fine ma la tappa di un percorso e fermandosi ad annunciare la purificazione ottenuta fa passare gesù come un santone mentre invece il signore voleva accompagnarlo in un cammino di santificazione perché la sua vita fosse di nuovo vissuta in comunione con dio e con gli altri vedete miei cari questo cosa ci dice è possibile ricevere una grazia ma non entrare in un cammino di conversione è possibile sperimentare il perdono di dio ma non deciderci a seguirlo è possibile vivere un'esperienza bella del signore ma poi non andargli dietro purtroppo sì al punto da ridurre persino la fede a una serie di esperienze forti da vivere senza decidersi a vivere secondo il vangelo con il rischio di ridurre persino i doni di dio a dei fatti da divulgare usando tutto per attirare audience e gente a sé cari fratelli e sorelle in conclusione coraggio non temiamo di riconoscere la nostra lebra di saperla mettere davanti al signore di invocare il suo aiuto lasciamoci toccare sempre e di nuovo dalla sua misericordia e ridecidiamoci ogni santo giorno a camminare secondo la sua parola e allora sì che passo dopo passo la nostra vita rifiorirà portando frutti di vera santità che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti